Tu sei destro? Sì Vuoi giocare con il sinistro con me? Che cos'è The Other Foot? E' un metodo scozzese che permette ai ragazzi di rinforzare il piede debole. Com'è il tuo sinistro oggi? Diciamo un po' scasso. Tutto con il piede debole, a partire dal controllo della palla, del dribbling, del tiro in porta, per poi dopo continuare con altri tipi di esercizi un po' più impegnativi, però per quello che è la scuola calcio chiaramente partiamo con delle attività veramente di base. Sembra quasi un compito in classe di calcio. Sì. Abituando quotidianamente il piede no, ma indipendentemente oltre che il piede anche l'arto no, si migliora come coordinazione, come tutto, anche l'arto buono. Quindi è un buon allenamento, soprattutto per i più piccoli. Oltretutto si migliora la testa del ragazzino. Non va mai in affanno, con la paura ce l'ho sul piede sbagliato, devo fare molti più tocchi di palla per mettermi alla posta, invece diventa molto più fluido nel giocare. Un po' fa male, perché dovevo tutti i sforzi.